Ciao tifosi del Napoli, andiamo a fare un altro video qui sul canale, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo video, ci siamo e ora andiamo alle notizie. Zoboslay Napoli, CT Ungheria, ne abbiamo parlato. Spalletti è il massimo per lui. Il forte centrocampista dell'Ipsia è molto apprezzato dal club partenopeo, destinazione su cui starebbe riflettendo. Dominic Zoboslay può andare al Napoli? Ne ha parlato la redazione dell'emittente ufficiale del club azzurro con il tecnico dell'Ungheria, Marco Rossi, durante la trasmissione di Radio Gol. Credo sia arrivato il momento di fare il passo definitivo per andare in uno dei principali club europei, il Napoli è tra questi. Ne abbiamo parlato, ma non so quanto sia percorribile la via italiana per una serie di motivi economici, Il ragazzo ora ha l'idea di fare un passo avanti, tecnicamente il Napoli lo è. Ma ha un contatto a lungo termine con il Lipsia fino al 2026, non dobbiamo perderlo di vista. Il reclutatore ha poi aggiunto, S. Zoboslay con Spalletti? Per lui sarebbe un top trainer, in carriera è già stato allenato da altri top player come Nagelsmann ad esempio. Lavorare con un italiano tra i migliori di sempre non può chi aumentare le sue potenzialità. Posizione? Penso che non dovrebbe limitarsi a un ruolo, gioca da esterno di centrocampo in un 4-4-2, ma non credo sia la posizione ideale. Nel 3-4-2-1 lo abbiamo utilizzato alle spalle dell'attaccante con ampia possibilità di decidere dove aprire spazi in campo per operare in fase di possesso palla. Quindi, se non sei ancora iscritto al nostro canale, fallo subito per non perderti nessuna notizia sul Napoli. E se sei già iscritto, aiutaci a crescere e raggiungere più persone interessate al club lasciando il tuo mi piace sui nostri video. Insieme possiamo continuare a festeggiare e sostenere il Napoli nel miglior modo possibile. Grazie per aver guardato e aver fatto parte del nostro club napoletano.